Ehm, ciao! Oggi siamo trovati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi ci affronteremo in un nascondino molto emozionante perché questo nascondino ha dei ruoli e ognuno di noi assumerà un ruolo particolare però loro non hanno avuto voglia di leggere il suo proprio ruolo, quindi in sostanza sarà un po' un'improvvisazione generale è stata capire quale ruolo, esatto, capire Marci che ruolo volesse fare Allora ragazzi, io sono entrato semplicemente due minuti dopo perché non avevo l'istanza e non me l'hanno voluto spiegare e loco deve fare il 600 ogni volta dicendo Allora, tranquilli, tu devi stare Chi inizia a cercare, loco? Tu Io? Va bene, inizio io Allora, cliccatevi sul vostro cartello e sceglietevi il vostro ruolo Io farò l'hunter per fare il nostro cacciato Finito di sbattere la destra, tu Io col tuo cartello è così Molto bene, avete selezionato tutti i vostri ruoli? Sì Siamo sicuri? Allora possiamo partire Avete 35 secondi poi arrivo Usate bene i vostri poteri Dovreste commentare voi, io non vedo niente ragazzi Una bellissima città dentro una caverna piena di fiori Mi potete mettere night vision? Santo signore Arriva la night vision, tranquillo Certe notti Certe notti Loco si ammazza Ragazzi, ce la faccio fino Allora, 10 secondi Che ci spiega cosa dobbiamo fare Sì, in caso te lo scordassi Sì, hai tutto Sì, perché questo gioco capisce che comunque Le... Certe persone Certe persone Esatto, vedo che hai capito Sei uno che coglie le cose al primo call Non è vero Nico è andato Ciao bellissimi Allora Io però Io vedo Marci Quindi siete pure vicini Ottimo No, siamo lontani in realtà Però lo vedo in cima al mondo Allora Stai snitchando dove Marci? Sono sopra di te In cima al mondo Non è che avevo snitchato Come arrivo lì so Ah, qua Non puoi perché io ho la potenza su di te Non so che vuol dire che hai la potenza su di me Lei è ground La tua debolezza sono io Ma io non stick Cos'è lo stick? Tipo spicchiarti Lo stick mi sa che è a knockback il tuo Ma Marci Non ha knockback il mio Allora non lo so cosa fa Leggi Non ha funzionato Cosa dovevi fare? Volevo andare a levitation Eh ma me la devi lanciare Mi hai dato jump boost Marci L'hai letto bene le pozioni? Ma non ha letto Fa veramente schifo C'è scritto che Da jump boost e levitation Dopo leggo io il suo libro E capiremo che cosa ha sbagliato Magari deve shiftare per dare levitation Guarda ti do Ti lascio stare Leggiti il libro E leggiti quello che dovevi fare Vado a cercare quell'altro Perché veramente Il mio arco in teoria dovrebbe spottare le persone Tipo vicino dove atterra la freccia Quindi se tipo loco è nascosto dietro un muro Io gli lancio una freccia Dovrei vederlo Però loco Prova prova Eh ne ho lanciata una Ma non ha perso niente nessuno Qui si può andare Madonna enorme sta mappa Forse dovremmo giocare con le mappe non large No dopo un borgio No non può andare poi tranquillo Ok allora forse fanno bene le mappe large 3 minuti 15 Ho fatto scappare Marci Al momento non ho nessuna preda In mio possesso Qui non posso andare Ma loco dove sai che non ti vedo io? Mi hai visto invece Loco Loco gira Nico girati dall'altra parte C'è un albero Sopra l'albero c'è loco Ah 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 Gli albero Dietro di te Destra Dietro No destra Ho visto Marci È là Lui è là Ma come siete andati sugli alberi I rampicatori Vai a prendere Marci Quello perché fa particelle verdi Ciao Allora adesso ti spiego come andranno le cose Tu scendi No qua non posso salire E lì sopra posso arrivare senza le tue pozioni No non puoi Cioè c'è una roba che ti fa salire Ma non puoi poi arrivare qua Ma tu devi ucciderci o devi solo colpirci? No io vi devo uccidere Vedi se tu arrivi lì non puoi arrivare poi E come sei giunto là sopra tu? Perché io c'ho il super salto Vedi se tu vai lì sopra Prova a salire Ok ce l'hai fatta Ti ho fregato bene Sì ma io non riesco a prendere quello se salta con una cavalletta Perché c'è il tuo gratificio sopra di me? Non lo so Infatti c'è scritto che la tua debolezza sono proprio gli acrobati Ma dove l'hai letta la mia debolezza? È lì loco comunque guardami Nico guarda è là Vai a prender lui Perché se prendi me non riesci a prender lui poi Da a sinistra Ho capito Sto facendo il giro dell'albero È invisibile Non c'è Ma stava pure planando Ma tutti i planati qui Ma non ho trovato nessuno Al mo dove è andato? Capato Io dopo cambio comunque il mio Eider No non si può cambiare ormai Così ti studia le debolezze È troppo forte questo qua zio Ma dove è? Mi ha coperto Come sei entrato qui dentro Magia Magia nera Com'è possibile che io mi possa arrampicare su una Va bene Nico scendi Nico devi scendere Cosa devo scendere tu? Dal piano sotto Ah Dai ho messato l'accettata Mamma mia ma ragazzi Oggi è una brutta giornata per me No È un'andata A posto Comunque a me non risparmi male I marci risparmi sempre Perché? Ma perché l'ho trovato al primo secondo E manco lui sapeva cosa potesse fare Infatti quello è vero Ma devi ucciderlo Non devi avere pietà dei nemici Ma perché io sono una persona altruista Dove è andato? È lì sopra ancora Io sono qui Sento aspettare i marci Che brutta roba È abitudinario ragazzo Mo tanto io arrivo sopra Mi sono slowato da solo? No ok A meno quello Nico Però intorno al mio potere Ti rende più debole Se sono vicino a te Sì è vero Sì mi hai tipo Non riescivo più a saltare Non riuscivo Sì il mio potere fa quello Dai l'abbiamo fatto vincere loco almeno Meno male Dai allora chi vuole cercare Io Vai cerca Marci Allora Marci ti dico la possibilità di mappe che hai Puoi scegliere Motel, prigione o carnevale Carnevale Tra l'altro scelta il carnevale Ora io contro di te Mi giocherò Il warper Sarò infame Warper Prego Che vale Invece loco che cosa sei? Io sono un collector Non so c'è un tizio francese mi sa Non so cosa faccia quelli dei loro in realtà Il mio è molto sgravato in realtà Perché posso tipo Perché chi è Ben adesso che dice Oh 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 Tu praticamente In base a quante XP guadagni Puoi diventare invisibile Cioè tipo hai un sacco di XP Allora L'XP si consuma e tu rimani invisibile per tutto quel tempo Perché tengo l'XP? Eh non lo so devi leggertelo Forse stanno shiftato Io invece Teoricamente Se faccio una cosa Di Di questo tipo Quando mi sento In Ah stendo delle cose per attivarlo Di così Ok Ok Devo tenerlo in mano vicino al Lanter Ma come si sono le spec tra l'arro che usavi tu pure Nico? Non so se ce l'hai anche tu Se ce l'hai basta che le lanci E se colpisci un blocco Ma con la Q? No le Non è un arco? No ho un crossbow ma serve per altra roba Eh no è sempre quello Questo che cos'è che fa? Ok questo è carino Devi stare shiftato loco? Sì devi stare shiftato Ha shiftato cavolo Eh mi sa di sì Cioè oddio non lo so Prima vedevate Non mi ricordo se vedevo il vostro nome Prima mi devono No non si vedeva il nome Allora non shift Mazza mi sono lentissimo Però io vedo Non mi dico che sta correndo via Io non li vedo Ok Palla raga Meno male Meno male Non li vede Non sono sicuro che lui non li veda eh Ho questo dubbio che mi affligge Ah no Io non vedo Per adesso non li vedo i nomi Ti giuro No 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 Ok 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 Ecco ho visto la cosa Nico fai no Ma shift e salta Perché? Pallo Che cosa fa? Oh ti fa delle cose E anche cosa deve servire Non lo so Va bene loco Lo farò più spesso Però mi sono fatto sgammare Ah mi sa che è un taunt Sai? Ah ecco perché Oh vedo loco Hai loco molto vicino te Oh non funziona il mio colletto di xp Anche se sono vicino alla nuova marci Forse devi essere ancora più vicino Io vicino così Non te so dire Dovrei provarlo Ma non so come farlo Io punterei un po' più in alto Caro marci Ah e qui in alto Non so come arrivarci brother No proprio Niente scappato Perché era luminoso loco? Beh mi ha beccato marci mi sa Hai scappato? Sì Ragazzi Raga sta mappa non si capisce nulla Perché ti puoi mettere nell'erba Che manco vi vedo Lei c'è tanto questa mappa Andico verde sono rosso Ma non è il mio verde questa erba Più spenta Comunque verde Io me la sto chillando Sono dalla parte opposta Io sono in cima al mondo Mi piazzo qua addirittura Mi sono il punto più alto possibile Ah vedi? Sì io so Shiftato posso fare quel potere lì Ok Carino 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 Io vedo il tuo nome però Non so se anche marcio vede Mi sa di no spero No io non vediamo Avete buttato una pozione Vi ho sentito Non ti ho preso però con quella pozione Mi sa Mi sono preso da solo in compenso Ehi là Come faccio a arrivare da te? Cercati Ti prego Caccati Uno due Cercati Ah avevo capito caccati No se mi colpisci mi restate il cooldown No questo non lo sapevo Eh questa è la fine per me Ok Uno è andato Non ho usato il potere Oddio ho dato un pugno a qualcosa Nico stai vedendo? Sì ma tu sei veramente in una posizione orriba Hai un po' di esperienza almeno No zero Eh non so come aiutarti Dove cavolo è andato? Eh non so come dirti È una situazione un po' scomoda per tutti Non va il mio xp collettro perché? Forse sei shiftato già di default Sì ma di base c'è raga se non lo vedo Io non ti ho mai Io Rocco non l'ho mai visto Ma dai ero sopra l'albero sopra te prima Ad essere un punto bello nel camperatino eh Io però prima ti dicevo Fermati guarda sopra di te A sinistra no più sinistra Sinistra Quella destra Ma quelle sinistra Questa è sinistra loco Alla mia sinistra Io non so bene come aiutarti Tu posso dirti in una botola Però non capisco neanche io dove sia Una botola ragazzi Ma è tutto ok Ma svegliatevi Credo sia di oak Però non vedo molto bene Sì è di oak È sotto un albero Sotto un albero c'è una botola di oak Dalla parte opposta tua Perché sei molto lontano Dai esco gli ultimi secondi Sono gentile Dietro un dark oak 3 È nella ruota panoramica È in un campfire Ti ha tauntato 5 4 4 3 Ciao marci a dopo Sonti tu e te Ciao Buona volta tutto bene Madonna mia raga che difficoltà Infametto Che seeker sei loco scusami Il chaser Grazie Va bene allora loco La tua domanda invece è Vuoi il motello o la prigione? Mi piace il motello Dai Il motello è molto bello Aspetta io non so cosa sono No aspetta no Facciamo prigione E ho fatto acrobata Vabbè Prigione tu sei una acrobata? Io cos'è che era l'altro Il tanker devo fare Ho detto andiamo un motello Andiamo un motello Io loco ti do fuoco te lo dico eh Allora il mio potere in realtà è un po' uno schifo rispetto a quello di prima Non l'ho ancora letto io Ma mi hai già tolto la vita Non ho la night vision Io che sto registrando Devo dare la night vision a tutti ovviamente Allora eccoci qua Dunque Il mio potere non è molto forte Vi dico la verità Ho un bastoncino Sì ma sta mappa è facilissima Non c'è neanche modo di scappare Come no? Non è malvagissima Ho trovato già un posto carino io No ma c'è pieno di passaggi È veramente pienissimo di passaggi segreti È che non so bene Wow Ok Devo riuscirci aspetta Ho partito Vabbè Non mi sembra un motello sta cosa Bellissimo Io sono Inespugnabile Introvabile Cos'hai potuto tu come potere loco? Il chaser E che cos'hai di potere? Eh posso avere speed E la freccia È un po' il mio counter Praticamente Io non capisco Perché mi dà spida a caso È una brutta sua posizione Forse quando sei vicino a qualcuno Può darsi sai È la passiva È l'ultima pagina che non hai letto Probabilmente Perché tanto chi legge Lì fino alla fine Io Non so come uscire da questo posto Senza farmi uccidere Ma scusa Hai usato il crossbow? Ho usato? Eh? Perché la mia Non sono diventato Bianco? Perché mi sa che non ho toccato Un blocco Porca paletta Che culo Sì ma non so come scappare da qua Io Oh wow Dico No io non so Non so come scappare Ok loco se n'è andato Non male Ma non so Mi sta prendendo pure il culo quello No no loco Ero di fianco a te Ti ho detto anche cosa Do il crossbow Cos'è stato questo suono? Ora stai salendo dalla parte opposta Stai riscendendo Ti sei shiftato un secondo Ti stai rigirando È un po' confuso C'è il big C'è il glowing Quello No no io ti vedo perché ti vedo No no ti vedo perché ti vedo brother Come ho fatto a vedermi? Eh ti vedo Presente quando vedi? No Più a destra Più a destra Un po' più in basso Un po' più in basso mi avresti preso Non va tanto In realtà ero dietro di te Però va bene così E qui però non si può uscire Qui si può uscire No qua non si può uscire È partita una musica Oh no Nico sei bianco Ma come ha fatto? Ha lasciato tipo di trappole? Come faccio a finire? C'è la musica E la sento la musica La sento molto bene Nico ti sta seguendo No non mi prende Sta salendo No non mi prende Ehi la Ah loco ascolta Ti stavo dicendo dove ero dietro di te Va bene Guarda che ce l'ho pure io la speed Oh signore E ci ho meglio No No mi conosce No Cos'è sto rumore Sono io Manca marcia adesso Perché fai questo rumore? Non so guarda È il taunt sempre Però è un suono diverso Ah perché sei un taunt E fai rumore metallico Ha senso Vicino a me O lontano da me Sembra sul tuo stesso livello Ma lontano 50 50 Eri vicinissimo prima In cui sei tu Ma basta dargli indizi Era vicino prima È difficile qua È pieno di nascondigli segreti Hai scelto tu questa mappa Dai loco sei vicino Sta correndo Ah no Loco sei vicino Sei andato troppo sopra Sono livello sotto Loco piano di sotto Il piano sotto di quello sono Più di così non ti dico Tanto un po' Fai i suoni 3 secondi fatti ho visto Fai i suoni Fai i suoni Oh ma che cavolo Eh se non è pane Dai ma che sfiga Se non è zuppa forse È pan bagnato Come ho fatto di andare in quella zona lì Non si poteva arrivare C'era un bar Era arrivabile Era arrivabilissimo Loco volevo farti il culettino dietro Per dirti che non mi hai neanche visto una volta Va bene anche te Neanche te il primo brutto idiota Perché? Ma non c'è bisogno Io stavo per fare il finale dicendo Abbiamo una win a testa Siamo tutti amici E quello deve rovinare il tutto Sarà bippato Abbiamo una win a testa Ho vinto il primo round Davvero? Vedi a destra Lo vedi a destra Sai leggere? Ragione ragione Per leggere tutti ragazzi Ma facciamo così dai Facciamo l'ultima Nico Per oggi è tutto ragazzi Noi ci vediamo poi Ciao 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 Ciao